Dopo vent'anni di degrado il progetto di bonifica prende forma con delibera di giunta comunale di Palazzo San Francesco e storia approvato il progetto definitivo di 450 mila euro per la bonifica della discarica di Santa Lucia. Gli uffici incaricati procederanno speritamente con i prossimi passaggi, richiesta muto della Cassa Depositi e Prestiti, redazione del progetto definitivo e gara di appalto dei lavori prevista per la primavera del 2023, fanno sapere dal Comune. Una storia infinita che va avanti dal 2002, attenzionata anche dalla procura di Sulmona che nel 2016 aveva aperto una nuova inchiesta contro ignoti. Nel 2017 fu istituita una commissione d'inchiesta durante l'era Casini, oggi la svolta, almeno si spera. In una sola notte vennero lasciate 2.500 tonnellate di rifiuti speciali con la scusa di utilizzare materiale per alimentare una centrale di energia di un'azienda agricola, rifiuti di ogni tipo arrivati dal napoletano. L'ordinanza era stata inviata alla società che nel 2022, anno in cui venne denunciata l'esistenza della discarica abusiva, aveva gestito l'aria. Passa un decennio e nel 2012 il Comune, sollecitato dalle proteste dei cittadini che chiedevano la bonifica della discarica, in quanto poteva causare l'inquinamento delle falde acquifere e dei terreni circostanti, aveva provveduto a inserire in un programma triennale l'impegno a bonificare l'aria. Impegno che prevedeva una spesa di circa un milione e mezzo di euro e che finora era stato disatteso, lasciando intatte la discarica e la condizione di disagio, ma anche di rischio, che vivono i residenti della contrada Santa Lucia.